Intanto, intanto vi ricordo che potete anche fare una donazione al canale, se volete basta cliccare sul tastino col dollarino Sono con il pantaloncino, fa caldo, minchiona Perché te lo stai con la tuta, con la tuta mimetica, cretina di una stella marina Sono con il pantaloncino, minchiona Allora, partiamo, partiamo e vediamo, vediamo quindi La nostra stella marina che ha il cervello di una gallina Stella marina che ha il cervello di una gallina Stella marina che ha il cervello di una gallina Allora, vediamo, vediamo, partiamo, partiamo e cerchiamo, cerchiamo di capire quindi ignorare il narcisista nelle relazioni sentimentali e affettive è molto importante è molto importante perché, per quale motivo è molto importante? perché è una sfida ma è necessaria per proteggere la nostra salute mentale è fondamentale ignorare il narcisista per proteggere la nostra salute mentale per proteggerci, diciamo, da tutte le situazioni negative, nefaste al quale il narcisista ci può sottoporre salutiamo Roxy, Roxy Rosa allora, quali sono, come possiamo fare per ignorare? perché dobbiamo trovare dei modi intanto è importante ignorare un narcisista ed è fondamentale imparare a ignorarlo questo è il primo punto poi ovviamente ci sono diverse modalità può essere una sfida allora, la prima cosa che devi fare per ignorare un narcisista e questo gli dà una bella botta e non devi rispondere ai loro messaggi cioè, non devi assolutamente rispondere ai messaggi del narcisista perché se tu rispondi al messaggio del narcisista praticamente gli dai solo una chance gli dai solo una possibilità di ottenere quello che vogliono fondamentalmente tu non devi dare al narcisista la possibilità di ottenere quello che il narcisista vuole quindi ignorarlo prova a rispondere ai messaggi è importante, diciamo prendere le giuste misure evita di rispondere ai messaggi non devi dare l'opportunità l'opportunità di, diciamo di scriverti quindi questo è un punto è un punto molto importante perché se gli dai l'opportunità di scriverti di staccarsi dal narcisista è fondamentale come dicevo è una sfida complessa ma con determinazione con le strategie adeguate potrai ottenere dei grossi risultati ci sono alcuni passaggi che veramente in linea di principio ti suggerisco il primo passaggio qual è? quello di riconoscere il problema riconoscere che ha a che fare con una persona negativa con una persona manipolativa è fondamentale devi identificare diciamo i comportamenti narcisistici ne ho già parlato tante volte la mancanza di empatia la manipolazione il senso di superiorità accettare che questa è una relazione tossica e questo è un altro punto importante devi essere tu che accetti il fatto che questa è una relazione tossica salutiamo la nostra Chiaretta Palma la stella del mattino salutiamo anche Leti poi devi impostare devi stabilire dei confini precisi e non accettare che questa persona venga vicino a te questo è un punto fondamentale devi interrompere devi tagliare i ponti fondamentalmente poi vedremo esattamente ma comunque devi bloccarlo su tutti i social sul telefono sull'email evitare di rispondere ovviamente se diciamo se vivi con un narcisista te lo devi levare dai maroni fondamentalmente ma poi è molto importante concentrarsi su se stessi questo credo che sia la base concentrarsi su se stessi è il punto fondamentale non devi farti coinvolgere nelle discussioni devi evitare di discutere devi cercare di capire o di far capire il narcisista devi evitare di cercare di fargli capire il tuo punto di vista tanto non importa cioè non lo capirà mai e se lo capirà capirà le cose sbagliate quindi ricorda che non è compito tuo cercare di cambiarlo non è compito tuo cercare di guarire anzi se si affossa cavoli suoi a te che cavolo te ne frega ricorda a tutti che se volete mettere un like è gratis se volete fare una piccola donazione al canale per dare un sostegno se il canale vi piace potete fare una piccola donazione cliccando sul tastino col dollarino devi imparare i segnali di allarme fondamentalmente devi riconoscere quelli che sono i segnali di allarme come dicevo prima ma poi devi mantenere la tua decisione non permettere che i tentativi di manipolazione ti facciano cambiare idea rimani fermo nelle tue decisioni per il tuo benessere questi sono tutti i punti fondamentali che devi prendere in considerazione e io questo ti ripeto salutiamo Tug quindi una volta che hai evitato di rispondere ai suoi messaggi devi bloccarlo anche sui social media il narcisista va bloccato anche nei media ai messaggi non devi rispondere ma poi io ti suggerisco proprio di bloccarlo su tutti i social media in cui tu ti trovi bloccare un narcisista sui social media è una mossa importante perché protegge la tua salute mentale e protegge il tuo benessere ovviamente quali sono alcuni consigli diciamo quali sono i motivi per cui un narcisista va bloccato devi bloccarlo anche nei social perché i narcisisti utilizzano spesso i social media per fare che cosa per manipolare e controllare le loro vittime diciamo talvolta attraverso commenti sprezzanti salutiamo anche la nostra barbona la nostra barbona Pamela la barbona lei vive sapete Pamela vive in un cartone abita in un cartone alla stazione quindi è molto importante evitare diciamo manipolazioni quindi i narcisisti utilizzano spesso i social per manipolare e controllare le loro vittime attraverso commenti sprezzanti tentativi di diminuire poi ad esempio i post che i narcisisti mettono potrebbero essere dannosi perché potrebbero essere mirati in qualche modo ad agganciarti potrebbero essere mirati in qualche modo a minare la tua fiducia e a minare diciamo la stima la stima che tu puoi avere in te stessa quindi bloccare un narcisista tra l'altro come possiamo dire interrompe il suo accesso diretto a te quindi riducendo comunque la possibilità di contattarti tu non devi dargli la possibilità di contattarti e poi fondamentalmente grazie a Tug fondamentalmente ti riduce lo stress no? perché quando ma questo non vale solo con i narcisisti quando tu hai a che fare con una persona che in qualche modo ti fa girare i coglioni che senti che c'è un po' di coinvolgimento no? perché se non senti nessun coinvolgimento anche con una persona che non è detto che sia narcisista no? magari una persona che non si comporta come vorresti che per caso oggi ci sono domani non ci sono personaggi di questo genere tu devi semplicemente come dire ti riduci lo stress se riduci i contatti se annuli i contatti perché anche se magari resti solo in contatto tramite messaggio questa persona potrebbe diciamo in qualche modo stressarti potrebbe in qualche modo tartassarti potrebbe in qualche modo infastidirti quindi essere esposti diciamo ai contenuti di un narcisista o di situazioni di questo genere non ti porta fortuna non ti porta bene quindi devi imparare a toglierteli dai maroni bloccarli aiuta a mantenere per te un ambiente più sereno ti aiuta a ridurre lo stress quindi puoi farlo e non devi neanche permettergli che lui ti veda quindi io ti suggerisco ad esempio se tu sei attivo su delle piattaforme mettere della privacy bloccare l'utente bloccarlo dappertutto su facebook vai sul profilo clicca sul tastino con i tre puntini e blocca su insta lo blocchi su twitter lo blocchi su linkedin lo blocchi su whatsapp lo blocchi se diciamo pubblica contenuti offensivi diciamo che in qualche modo possono essere riconducibili a te lo segnali quindi rivela elimina tutti anche le personaggi che in qualche modo potrebbero insomma potrebbe manifestarsi come fake quindi tieni soltanto profili di persone sicure bloccare il narcisista sui media secondo me è un passo importante comunque perché diciamo è essenziale per la tua salute mentale e ovviamente per non poter interagire con questa persona quindi ma ripeto magari altre persone che non sono narcisiste non è importante bloccarle ovviamente ma però come possiamo dire su però persone che ad esempio quando qualcuno ti genera un coinvolgimento e senti tu inizia a percepire un coinvolgimento che per un motivo o per l'altro ti potrebbe dare un coinvolgimento ma che per un motivo o per l'altro non è complementare le tue esigenze tu devi togliere dei coglioni subito levartelo dei coglioni subito è inutile che perdi tempo diciamo noi non dobbiamo perdere tempo con persone che non sono complementari cioè se io vedo che una persona non è complementare io non spreco energia per nessuno ma non spreco energia ma manco morto cioè preferisco 150.000 uno dice vabbè ma perdi l'opportunità se non cerco la canzone se non lotti per amore ma che lotti e lotti cioè non c'è deve essere nessuna lotta per amore io non spreco assolutamente energie non spreco assolutamente tempo me ne sbatto altamente le palle se una persona non è complementare le mie esigenze io me ne frego non do non do diciamo non do nessun che possiamo dire non spreco neanche un'energia non spreco neanche un secondo cioè a una persona si mette da subito a complementare le mie esigenze oppure se non si mette a complementare me ne frego cioè e qualcuno ti dice vabbè ma magari ti perdi un'opportunità ma che perde perdo non perdo nessuna opportunità anzi guadagno delle opportunità e cioè questo è il concetto di fondo o ti metti complementare le mie esigenze o per me sei fuori ma non me ne frega niente tanto il mondo è pieno di pesci cioè diciamo un pesce vale l'altro il mare è pieno di pesci quindi o ti metti complementare può essere un discorso egoistico è sicuramente ma io me ne frego me ne frego altamente cioè io dico quello che faccio io poi ognuno fa quello che vuole io me ne fotto altamente quindi devi ovviamente un'altra cosa se hai a che fare con un narcisista evitare assolutamente i luoghi dove sai che potresti incontrarli perché è inutile è come dire se tu sai che in un posto ci sono gli orsi che ti possono sbranare che cavolo vai in quel posto lì non è che vai come quello che è andato a correre lì che se lo sono sbranato nella cosa dove c'è il cartello attenti agli orsi attenti al narcisista non c'è scritto però evita diciamo di andare nei luoghi dove puoi trovarlo se è uno che conoscevi in palestra cambia palestra tanto il mondo è pieno di palestre cioè non è che devi per forza diciamo frequentare a meno che non sia un ambiente di lavoro allora non devi poi lo frequenti ovviamente ma non lo più neanche in considerazione ovviamente se devi interagire con il narcisista ad esempio per lavoro per dire no perché è ovvio che se può essere un collega una cosa non è che uno deve cambiare lavoro per il narcisista però non devi lasciarti intrappolare nelle discussioni non devi non devi lasciare tutti i posti che conosco e frequente anche tu comunque sia dicevo se tu lo devi frequentare per lavoro perché può capitare che per lavoro devi frequentare quella persona o per altri motivi magari il padre dei tuoi figli la madre dei tuoi figli che cavolo ne so potrebbe essere che che fare con un narcisista che magari è tuo figlio magari è tuo padre magari è tuo nonno è tuo fratello non lo so è un parente che in qualche modo con il quale devi interagire allora diciamo beh allora non devi farti coinvolgere in discussioni fondamentalmente la cosa principale è quella di non farsi coinvolgere in discussioni non farti coinvolgere in discussioni se ti trovi a interagire con loro evita di entrare in discussioni in dibattiti evita non cercare di convincerlo delle tue opinioni o di fargli cambiare opinione le discussioni del battito con il narcisista degenera facilmente in conflitti e poi non ti porta niente diciamo no le conversazioni con il narcisista devono essere superficiali mai raccontargli cose della tua vita perché si potrebbe approfittare potrebbe romperti i maroni quindi conversazioni superficiali brevi mantieni le interazioni su argomenti neutri su argomenti non controversi evita diciamo di scivolare su situazioni problematiche taglia corto se devi parlare diciamo o per lavoro o per qualcosa rivolgiti esclusivamente per quell'attività per cui devi interagire se vedi che cercano polemiche trova una scusa cambia argomento devi sempre avere l'autocontrollo l'autocontrollo è un'arma molto importante antinarcisista rimani calma anticontrollata autocontrollata reagisci diciamo reagire emotivamente alimenta la discussione tra l'altro ti coinvolge seguendo questi consigli puoi gestire al meglio le relazioni con il narcisista qualora in qualche modo dovresti dovessi interagire ovviamente con lui poi ovviamente quando ti sei tolto dai maroni il narcisista ti devi concentrare su te stessa su te stesso questo è il punto molto importante un punto fondamentale essere concentrati su noi stessi sul nostro benessere concentrarsi su se stessi è una strategia potente per superare l'influenza negativa l'influenza nefasta del del narcisista identifica le tue passioni fai una lista delle attività che ti piacciono che ti piacciono di più che ti hanno incuriosito che ti fanno stare bene dedica del tempo allo spazio alle tue passioni a quello che ti va impara sempre qualcosa di nuovo creati uno spazio personale cerca diciamo di stare bene l'acqua c'è l'acqua c'è l'acqua c'è guarda qua un sorso d'acqua vedi che c'è la nostra la nostra chiavetta chiavetta palma quindi questo è un punto molto importante quindi devi devi imparare a non restare vinculato col narcisista questo è un punto fondamentale ecco se segui queste istruzioni vedrai che te lo toglierai dai maroni al più presto e soprattutto non avrai dei problemi perché diciamo non avrai il problema di coinvolgerti perché il vero problema poi col narcisista è quello che se tu entri interagisci con lui finisci per coinvolgerti finisci per coinvolgerti e invece devi essere centrato su te stesso e poi ovviamente ripeto se è possibile devi tagliare tutti i ponti definitivamente devi tagliare tutti i ponti definitivamente questo è un altro punto fondamentale diciamo interrompere i contatti bloccare cambiare stabilire dei confini cercare un supporto insomma tutte cose che vedrai ti porteranno ti porteranno bene ti porteranno bene 15 litri ah no io ho un litro e mezzo che 15 litri cosa sono va bene metti un like iscriviti al canale attiva la campanella così riceverai la notifica dei nuovi video e tra l'altro vi ricordo una cosa importante